Siamo un gruppo di persone esperte in psicologia, psicoterapia e in varie forme di relazioni d'aiuto che si ritrovano da molti anni a riflettere insieme su ciò che possiamo definire sensibilità umana o spirito nascente di una umanità nuova. Umanità nuova che si va sviluppando molto velocemente in questi anni, di un'epoca diremmo terminale in cui vanno tramontando molte illusioni e ideologie in tutti i campi del sapere. Al contempo da più parti oggi si sente anche parlare di un ritorno ad una vita più spirituale. Abbiamo visto aprirsi resort, conventi, comunità che accolgono persone che vogliono staccare un po' con la vita stressante o il caos della quotidianità. Ma di che cosa si tratta veramente? Fermarsi, guardarsi intorno, respirare, riconnettersi con la propria persona tutta proiettata sul fare o sul correre è un'alternativa, diremmo pure una necessità all'essersi persi di vista. È un'alternativa alle connessioni senza limiti del proprio smartphone che dà l'impressione di essere sempre insieme a tutti ma essenzialmente distante da molti. Il nostro è un gruppo culturale che riflette su psicologia, spiritualità dell'interiorità umana e l'anelito vitale e creativo che ci si porta dentro pur a volte latente, anche quando tutto appare scontato, grigio e offuscato. Facciamo tutto questo prendendo molto sul serio i moti dell'anima, del cuore, del corpo per mezzo di semplici pratiche di tradizioni millenarie. Rilassarsi, meditare, concentrarsi, pensare, fantasticare, sostare in modo riflessivo e aperto prima di decidere ed agire in modo determinato. Oggi sono molto diffuse le pratiche meditative, la cosiddetta mindfulness, o pratiche come lo yoga, il buddismo o le adunate di preghiera cristiana. Sono diffusissime anche forme di aiuto psicologico, le psicoterapie. Ma c'è un ritorno quindi anche verso la cura dell'anima? Questa parola, anima, è stata tagliata fuori da una certa psicologia positivista, ma in realtà è come se oggi il termine fosse riabilitato. Si percepisce il bisogno dell'uomo di ritornare un po' a casa, tornare ad occuparsi di fare verità in ogni ambito della vita sociale, dalla politica all'economia, dalla televisione alla comunicazione, dalla chiesa alle agenzie scientifiche. Per questi motivi approfondiamo i processi psicodinamici, consapevoli ed inconsapevoli, che stanno alla base dei bisogni dell'uomo di oggi, che vuole dedicarsi più a se stesso. Fermiamo lo sguardo su come si riesce a passare, transitare, da uno stato psicologico ad un altro, da uno stato sopraffatto ad uno più libero, da uno stato di vita complicato ad uno più creativo, da uno stato sofferente ad uno più pacificato, e abbiamo chiamato questa zona di transizione su stati diversi col termine attraversamenti, che è il nome che scegliamo per il nostro gruppo di psicologia e spiritualità iniziatica.